è normale no ma sembra sembra a due busti sembra a buttare da dove l'ha visto? ma non ti puoi buttare ma glielo è casciuto non ti puoi buttare vado vado ma non lo so 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 è una piccola venezia che non lo sono ritorato franga venezia c'è duno è una piccola venezia è una piccola venezia è una piccola venezia venezia ascii ascii eh come si è andato a darlo mangiare a qualcuno tasto qui è il numero uno sii, io l'hai visto stiamo tutto, ed è venuto qui stai a forza stai a forza stai a forza a forza a qualcuno ma c'è ancora l'ambicaccio